Motog, Lorenzo, non è ancora il momento per giochi di squadra Dopo una prima parte in cui ha fatto non poca fatica, Giorgi Lorenzo sembra quasi aver trovato la quadra per far rendere al meglio la sua Ducati. Le buone prestazioni sono iniziate con larrivo della nuova carena che ha inglobato le alette esterne, vietate per regolamento, ed ora si sente pronto a lottare anche per la vittoria. . 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